Roby! Ciao! Ma che materiale ci serve? Ma sono tantissime Roby! Oggi niente Ale, ci serve solo essere tu qua! Ciao! Ciao bimbe! Ciao ragazze! Ciao Adriana! Buon appetito! Ciao Adriana! Sì, è questa la sospetta! Ho i capelli un po' più bianchi! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.